Prima fiera zootecnica a Pusiano, un'iniziativa curata dagli assessorati all'agricoltura della provincia di Como e della comunità montana del Triangolo Lariano, qui rappresentata dall'assessore Paolo Colombo. Parliamo innanzitutto di questa novità, di questa iniziativa che sta coinvolgendo l'intero paese di Pusiano e gli allevatori locali. Sì, diciamo che la prima edizione è benvenga perché un gruppo di persone qui di Pusiano ci hanno proposto questa mostra zootecnica in una forma un tantino ancora ridotta perché essendo la prima edizione volevano fare esperienza. Da parte nostra abbiamo ben visto l'iniziativa, abbiamo cercato subito di favorirla e abbiamo dato questo piccolo contributo a parte nostra, siamo presenti anche con le guardie ecologiche, con un nostro stand e con i prodotti tipici. Naturalmente ci sono un gruppo di allevatori locali, di pecore, c'è l'associazione della pecora brianzola che fa da punto di riferimento di questa iniziativa. Naturalmente l'anno prossimo sicuramente queste persone si adopereranno per ampliare un attimino di più, per renderlo ancora più visibile a tutti e soprattutto i ragazzi e le scolaresche della zona, che è l'obiettivo che mi sembra che vuole raggiungere l'organizzazione di questa mostra. Ecco, come ogni altra fiera è l'occasione per ritrovarsi con gli agricoltori locali e quindi fare un po' il punto della situazione di un settore alle prese già da tempo con problemi di un certo spessore che probabilmente acuiti anche da questa crisi. Sì, sicuramente in questo momento la crisi è una crisi generale che non ha trascurato neanche gli agricoltori e soprattutto gli agricoltori di montagna locali. Anzi, proprio in questo ultimo mese stiamo vivendo una situazione veramente paradossale. Gli agricoltori di montagna hanno ricevuto una revoca al loro conferimento dalla cooperativa che di solito prendeva il loro latte, una revoca a decorre dal primo di aprile, non possono più conferire questo latte alla cooperativa che abitualmente ritirava il loro latte. E tra l'altro ritirava il latte con costi di trasporto non indifferenti che metteva addirittura in serio pericolo la continuazione della loro attività. Adesso il problema è ancora più grave. Non essendoci più nessuno che vuole ritirare il latte, a questo punto si sono rivolte anche a noi in comunità montana, con le loro associazioni di categoria, con i loro sindacati e stiamo valutando come tamponare una situazione che a partire dal primo di aprile diventa veramente difficile da affrontare. Abbiamo già fatto diversi incontri, abbiamo anche sentito alcuni caseifici. Siamo ancora sulla buona strada ma non abbiamo ancora definito il tutto. Certo che questi allevatori si devono associare, devono costituire una specie di consorzio e poi se questo caseificio è disponibile a ritirare il latte degli allevatori locali si vedrà su come poi proseguire un discorso di trasformazione e andremo anche a contattare la distribuzione per la vendita di questo latte che deve essere comunque trasformato in formaggi, in yogurt e quant'altro. Da parte nostra poi abbiamo intenzione di aumentare anche sul posto la distribuzione del latte e formaggi. Sapete che ci sono in programma un nuovo distributore a Lago del Segrino e abbiamo preso contatti con il sindaco di Magreglio per il posizionamento di un ulteriore distributore proprio a Magreglio per cercare di andare incontro a questa esigenza momentanea. Poi si vedrà in futuro perché secondo me è un problema che va affrontato ad ampio raggio e l'obiettivo sarà anche quello di valutare la possibilità di creare un caseificio in zona per evitare di ricorrere sempre o di essere ogni sei mesi di fronte a questi problemi che rendono veramente difficile la sopravvivenza di queste persone, di questi operatori. Impegnati in prima persona anche gli amministratori volontari del comune di Pusiano con noi è il sindaco Andrea Maspero, un'iniziativa che coinvolge l'intera comunità tra l'altro collocata in una posizione strategica, l'area attorno a Villa Buornè che si presta a organizzazioni di questo tipo. Sì, è un'iniziativa che abbiamo sperimentato per la prima volta quest'anno credo che siano stati fortunati con la giornata, poi la cornice aiuta. Io sicuramente come sindaco devo dare un grossissimo merito per la riuscita della manifestazione a Pier Mario Roda che è un consigliere comunale che tra l'altro di recente abbiamo anche mandato in comunità montana come nostro rappresentante per l'impegno profuso all'assessore Colzani e chiaramente anche alla comunità montana che ci ha appoggiato in questa che è stata come dire un'iniziativa sperimentale. Però credo che se tutto va come deve andare la ripeteremo anche l'anno prossimo. Parliamo appunto di questo polo attrattivo che può rappresentare un futuro per il paese di Pusiano e la zona, Palazzo Buornè. Certo, diciamo che nella nostra ottica Palazzo Buornè deve diventare il centro del paese e della vita cittadina. Stiamo ultimando il trasferimento degli uffici comunali nel palazzo, nell'ala che stiamo ristrutturando. I lavori sono iniziati a gennaio e prevediamo, speriamo, auspichiamo che terminino entro l'anno con il trasferimento in toto della macchina diciamo amministrativa, dal comune alla polizia locale alle varie associazioni per le quali speriamo anche di creare degli spazi donne. In secondo luogo, questo è un po' il nostro desiderio per gli ultimi due anni di mandato che ci mancano, cercare di valorizzare ulteriormente questo contesto, questa cornice, in particolare creando a fianco dell'attuale campo da calcio un nuovo campo in sintetico e probabilmente portando a termine uno scambio di reciproco interesse con la parrocchia per creare una sorta di, chiamiamolo, centro parrocchiare con funzionalità però anche estese al comune. Quindi una sala convegni, una sala congressi, sempre nell'ottica comunque di fare l'interesse della popolazione e di cercare di creare aggregazioni, come dire, significative e soprattutto durature all'interno di quest'area. E veniamo a un'altra grande opera, la galleria. A che punto siamo? La domanda è alquanto puntuale e tempestiva. Aggiungere il momento è giusto. Sinceramente io mi trovo ad affrontare quotidianamente i quesiti dei miei concittadini che mi rivolgono la stessa domanda. Io sto, diciamo, agendo da un punto di vista politico, perché questa è la realtà, per far capire a chi deve decidere, nella fattispecie la Regione Lombardia, che l'opera, essendo anche già finanziata, diventa oltre che indispensabile anche il biglietto da visita per chi amministra dall'alto nei confronti di chi poi viene chiamato a votare. Perché se mettiamo fuori i cartelli, se dichiariamo che c'è la volontà di fare l'opera e poi l'opera non la realizziamo, credo che questo tende a minare un po' anche la credibilità delle istituzioni. Noi siamo quelle che a livello più basso hanno il contatto con i cittadini, però anche chi sta sopra di noi dovrebbe avere una maggiore sensibilità sul fatto che poi quello che, diciamo, è sulla carta deve diventare, deve tradursi in realtà. Per quanto riguarda invece l'aspetto non politico ma tecnico, io vi dico solo, martedì abbiamo una riunione in ARPA a Como con la provincia, credo che interverrassero i Cinque Santi, il sottoscritto e i tecnici dell'ARPA per capire quali carte, le ultime, auspichiamo, manchino. Una volta risolto questo problema di supplemento di documentazione e di integrazione, dovremmo arrivare al famoso decreto che dalla regione sposta definitivamente la competenza alla provincia e quindi gara d'appalto eccetera. Ci troviamo in quest'area di Pusiano, proprio sotto la montagna, sotto il cornizzolo con noi e l'assessore Fabrizio Turba, assessore dei lavori pubblici della comunità montana Triangolo Lariano. Una zona già funestata dal punto di vista paesaggistico con la cava e problemi vari. In futuro grossi interventi che riguarderanno, lo ricordiamo, la probabile galleria che consentirà di bypassare il centro di Pusiano, ma poi ci sono altri interventi in cantiere. Ecco, assessore Turba, come è possibile conciliare tutti questi lavori con la necessità di tutelare paesaggisticamente il territorio di Pusiano? Come comunità montana noi ci abbiamo già pensato, è una novità di adesso, il secondo lotto del progetto Alto Lambro è in graduatoria per cui verrà finanziato quest'anno dalla regione, tra l'altro la nuova legge 25 entro 100 giorni dovrà essere canterabile, quindi dovranno avere inizio lavori dal momento che viene finanziato e per cui riguarda proprio, siamo qui in zona, un passaggio a mezza costa che collega la parte di Longone dove ci siamo fermati l'anno scorso, scende Opiglio, Pusiano, arriva fino alla Madonna della Neve, lì dobbiamo intervenire sul muro perché è in condizioni precarie e tra l'altro noi ci fermeremo lì alla Madonna della Neve perché è confine in Pusiano e confine della comunità montana, ma c'è già un progetto che poi porterà il sentiero fino a San Pietro il Monte, farà il giro del Cornizzolo e tramite Canzo ritorna e quello che poi hanno inventato le varie associazioni è stato denominato il Gir di Santa. E' che bene precisarlo, si tratta di un percorso interamente pedonale. Esatto, sì, un percorso pedonale che ricalca vecchi sentieri, vecchi percorsi che vengono recuperati, ci sarà anche un discorso di cartellonistica e anche un discorso, vengono in questo percorso inseriti un ulteriore percorso che va a toccare tutti i luoghi sacri della cerchia del Cornizzolo. Per cui è lì ci sarà anche un discorso di cartellonistica apposita in cui verranno descritti tutti i luoghi sacri, che poi è quel famoso Gir di Santa che Compagnia di Noste, CAI e tutte le altre associazioni stanno da due anni percorrendo in notturna e per cui diventerà una realtà fuibile anche per tutti i turisti. Dal punto di vista viabilistico questo progetto regato alla galleria a che punto è? E' in conferenza di servizi, quindi conferenza di servizi, siamo stati chiamati anche a noi a esprimere parere sulla trasformazione del bosco, è già stata fatta la conferenza di servizi preliminare e praticamente in fase di autorizzazione, ho potuto vedere, è stato già finanziato dalla Regione con la delibera regionale, siamo, diciamo così, passaggi finali per le varie autorizzazioni.